Ora, come ne va? Voi pita la letra e poi che la c'è la letra blanca che riesce a pita la letra ma poi si a fecciare il retorno natural per impirare la pittura a volare un prato a aver promenito il colore del posto nella materia municipale di Mastichetta e di Plagna Libia di ragione per i amari questo è l'apità e spero che non Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.